La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Ci sono delle eccellenze storiche che vogliamo permeare questa sera, delle realtà che si sono confermate anno dopo anno, pensate alcune per ben 10 anni consecutivi e che partecipano anche alle nostre serate internazionali, quindi non solo qui a Milano ma in giro per il mondo. E dunque abbiamo deciso di invitarle proprio qui questa sera per riterare il premio che gli spetta, che spetta loro. Adesso li chiamiamo sul palco l'avvocato Simone Facchinetti, Facchinetti, lo firm and more. E allora e qui dobbiamo sottolineare che parliamo di questa unione e fidelizzazione da oltre 5 anni consecutivi e quindi si è riconfermato eccellenza anno dopo anno per essere un professionista poliedrico impegnato su più fronti, in grado di spaziare con la medesima competenza dal diritto civile al penale, dalla contratualistica al societario, dal lavoro all'internazionale, dal diritto ambientale allo sport, per la costante capacità di evolversi, qualità che gli evalsa l'ottenimento di plurimi, riconoscimenti anno dopo anno. Certo, facciamo una foto anche noi con l'avvocato. Grazie. Aspettiamo allora per gli altri 5 anni poi. Grazie avvocato. Grazie complimenti. Diamo il nostro benvenuto all'avvocato Simone Facchinetti, founder di Facchinetti Low Firme More, rinomata boutique legale sempre in evoluzione. Avvocato, quali sono i vostri progetti e le visioni per il futuro? Buonasera e grazie ancora dell'invito. Visioni e progetti, wow, due parole super che devono essere, a cui bisogna dare tanta sostanza. Allora, le visioni sono come nel nostro un po' di claim di studio è legal in innovation, perciò l'innovazione come tema focale, come strategia di studio. La visione è proprio questa, dare un servizio sempre più importante a livello di boutique legale, a livello di boutique legale, ossia il cliente deve venire da te non iscrivendosi in palestra, ma rivolgendosi a un personal trainer. Questo è un po' il paragone che mi piace, che mi piace dire perché competenza, reattività, assertività, cercare di equilibrare le emozioni del cliente che arriva, che normalmente può essere più ansioso o meno ansioso e perciò equilibrare le sue emozioni, le sue aspettative, le sue paure per farlo uscire sicuramente un pochino più confidente delle soluzioni, delle strategie che cerchiamo di individuare, perché questo significa nei progetti è sempre quello di dar sempre più un servizio rivolto alla gestione del rischio, sia che sia un privato, sia che sia una società, anche perché lo studio fortunatamente per come è stato impostato, è stato impostato a livello di gestione delle problematiche di diritto e di soluzione delle problematiche di diritto stesso, come? Partendo dal diritto di famiglia, passando al diritto penale, dal diritto societario al diritto del lavoro, alla parte del diritto sportivo, c'è la parte del diritto dell'arte, c'è tutta la nuova, il nuovo core business del diritto ambientale. Passando così alla fin fine nelle aziende, nei privati, con molta confidenza, perciò il progetto per il futuro è fornire sempre più un servizio completo. Completo vuol dire non solamente prettamente legale, ma di tutti quei servizi, di tutte quelle competenze che spesso si incastrano bene come un puzzle nel servizio legale, da quello fiscale a quello ingegneristico, a quello psicologico. Avvocato, lei è un appassionato di diversi settori, dall'arte allo sport e un esperto di diverse branche del diritto. Quali sono i segreti per diventare un pilastro per i propri clienti e costruire la loro fiducia? Allora, il segreto qual è? Penso che non lo sappiamo, però io cerco sempre di impostare il rapporto col cliente a livello di amicizia, perciò creare quella sintonia, quel equilibrio di emozioni, quella ricerca di quello che il cliente vuole, dando passione, perché poi alla fin fine, come dicevi, dall'arte allo sport, sono dei libri che ho scritto in tema di sponsorizzazioni sportive, così come in tema di gestione giuridica e fiscale delle opere d'arte e queste sono due delle materie che trattiamo in studio, insieme anche all'ultimo libro che è uscito sulla gestione dell'immagine e la tutela e la creazione del proprio personal branding, così come il tema dell'export, che è un altro tema molto importante di diritto internazionale che trattiamo, ma tornando a quello che mi chiedevi qual è un po' la chiave per entrare con il cliente è quella di prendersi per mano, di prendersi per mano, guardarsi negli occhi, essere pragmatici e raggiungere il fine insieme. Ci parli adesso dell'evoluzione dello studio Facchinetti, come avete superato e come supererete in futuro le sfide geopolitiche in tema di sostenibilità, tematiche che vanno al di là del diritto, ma dalle quali non si può più prescindere? Allora, in primis stiamo cercando di creare una divisione rivolta proprio alla sostenibilità e all'ambientale, come? Con competenza, preparandoci, studiando, facendo un master e circondandoci anche di, come dicevo, di altri esperti. Infatti il nostro studio è uno dei primi studi legali certificati ISG, proprio perché crediamo come la certificazione ambientale sia fondamentale oggi giorno per porsi sia tanto con i fornitori quanto con i clienti e risulta una chiave strategica di ingresso nel mercato. E questo come anche diritto internazionale, geopolitica, hai detto questa parola che chiamo particolarmente perché diritto dello spazio, geopolitica, ambiente, sono tre dei temi fondamentali che porteranno lo studio legali Facchinetti proprio nel futuro, perché sta nascendo una divisione anche creata proprio dal diritto dello spazio, a quello che si potrà fare nello spazio. tutto questo è legato però a un criterio di sostenibilità, di ambiente, di innovazioni, di supporto alle start-up che risulta sempre un core business importante per noi ed è per questo che anche il nostro team si sta sempre più evolvendo, si sta anche ringiovanendo perché naturalmente i nuovi talenti sono assolutamente necessari per uno sviluppo di questo genere. Grazie. 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 Grazie.